abbiamo parlato del gotico e io vi ho raccontato che è nato in Francia e che le sue caratteristiche principali sono il verticalismo e la fortissima presenza della luce tanto che i muri delle catedrali francesi o d'oltralpe in generale potevano quasi non esserci la muratura era ridotta al minimo sostituita da ampie vetrate ora vi metto davanti un'immagine come questa siamo in Italia e potrebbero nascervi dei grandi punti interrogativi perché questo è un edificio gotico italiano e sì perché il gotico nella versione appunto italiana è un gotico molto diverso da quello francese un gotico che viene definito come gotico temperato come se avesse una sorta di versione ridotta un po più modesta e ci sono delle motivazioni per cui questo gotico italiano non raggiungerà mai lo sfarso le altezze la presenza di così tanta decorazione come abbiamo visto o almeno intravisto in alcuni esempi francesi inglesi tedeschi spagnoli e così via europei vi voglio dare almeno tre motivazioni per cui il gotico italiano si svilupperà con questa versione cosiddetta appunto temperata la prima motivazione è di tipo politico e noi sappiamo che se non c'è un committente che ha interesse nella costruzione di un edificio o di un'opera d'arte questo edificio questa opera d'arte non verranno mai costruiti finanziati e realizzati e quindi la politica gioca sempre un ruolo importantissimo nella nostra materia nei nostri argomenti e la prima motivazione politica quindi della differenza del gotico europeo rispetto a quello italiano è che negli altri stati europei si stavano delineando quegli stati monarchici sempre più importanti abbiamo parlato appunto della francia della zona intorno a parigi che era diventata una zona monarchica in cui il re francese aveva un potere importante e abbiamo detto che il gotico almeno in francia ma anche in tutti gli altri paesi europei in cui c'erano delle monarchie che si stavano affermando il gotico era un po' lo specchio del potere monarchico come era suddivisa l'italia invece in quel momento storico tra la seconda metà del dodicesimo secolo e il tredicesimo secolo e anche il quattordicesimo beh erano divise in comuni tendenzialmente in territori che via via avrebbero preso la strada dei principati delle signorie molto lentamente molto gradualmente ma in questo momento ancora c'erano comuni ed è quasi impensabile immaginare che i singoli comuni potessero finanziare opere così imponenti così poderose come le cattedrali francesi che noi abbiamo visto quindi il primo motivo è puramente politico non c'era la necessità di dimostrare il potere spirituale ricevuto da dio perché appunto noi sappiamo che queste lotte intestine molto forti tra il papato e l'impero in italia si consumavano in modo molto diverso c'erano i comuni che combattevano talvolta con gli imperatori che avevano preso il potere anche sui comuni italiani quindi primo motivo è di tipo politico il secondo motivo invece è più di ordine come dire religioso perché dovete sapere che in italia noi abbiamo risentito moltissimo della regola benedettina dell'ordine dei cistercensi ora erano nati appunto due diverse anime diciamo dell'ordine benedettino francese c'era l'ordine benedettino cluniacense intorno alla bassia di cluny e c'era l'ordine benedettino cistercense così che prende il nome perché era ruotato intorno alla bassia di sito si scrive cite aux sito che è quella di cui vi sto mostrando in questo momento quello che era il complesso che poi è andato distrutto non è più quello che c'è oggi non ha più nulla a che vedere con ciò che c'era all'epoca ora questi monaci cistercensi predicavano e diciamo che si erano sviluppati intorno alla figura di san bernardo di chiaravalle di clavo perché era francese ovviamente noi lo traduciamo come san bernardo di chiaravalle così ci viene ricordato ma era appunto francese vi ricorderete che c'era stata una sorta di disputa tra la bate sujet che aveva propugnato la filosofia che aveva portato poi alla nascita del gotico in architettura a parigi e invece proprio san bernardo di chiaravalle che riteneva che tutto quello sfarso fosse del tutto inutile per la costruzione delle chiese ecco dovete sapere che bernardo di chiaravalle l'abate no che avrà un ruolo così importante dal 1135 comincerà a far costruire l'abbazia di clairvaux di cui appunto non abbiamo più la traccia che c'era un tempo ma da quel momento in poi comincerà a far costruire tantissime abbazie è quella che vedete in questo momento l'abbazia francese di fontenei e pensate che alla morte di san bernardo di chiaravalle nel 1153 si conteranno ben 343 diverse abbazie costruite secondo la filosofia l'estetica dei monaci cistercensi questa estetica che cosa prevedeva era un ordine che prevedeva l'isolamento la clausura e che in qualche modo prevedeva che i monaci vivessero una versione ascetica della vita e quindi un gotico immaginatevelo davvero ascetico lo vedete con una profonda austerità tanto che addirittura gli edifici come voi vedete erano privi di decorazioni privi di orpelli privi di sculture perché appunto non dovevano presentarsi come possibili distrazioni per questi monaci che appunto vivevano lavoravano pregavano all'interno di questi complessi monastici tenete presente che appunto si parla di complessi monastici io prima vi mostravo il complesso dell'abbazia di sito e erano complessi composti dalla chiesa dal chiostro dal refettorio o chiamato anche sala capitolare quindi immaginatevi davvero una sorta di grande luogo pensato e fatto per la preghiera per il silenzio per la concentrazione dei monaci cistercensi ecco dicevamo che in Francia c'era questo ordine religioso e in Italia se ne risentirà profondamente quindi l'influenza dei monaci cistercensi sarà profondissima in Italia nella primissima immagine che vi ho mostrato e qui riprendo la stessa facciata vi stavo mostrando l'abbazia di Fossanova in provincia di Latino quindi nel Lazio è un'abbazia costruita tra il 1187 e il 1206 che è gotica ma che è gotica così com'è gotico appunto nella versione appunto cistercense quindi vedete che il gotico italiano in questo caso lo riconosciamo perché ha gli archi ogivali e ha dei pilastri che sono più che essere a fascia sono compositi con una presenza magari in più di verticalismo se vogliamo rispetto all'edificio che abbiamo visto in precedenza cioè quelli romanici in Italia ecco vi mostro un altro elemento che poi tornerà guardate la parte absidale delle abbazie cistercensi vi faccio notare qui la presenza anzi l'assenza dell'abside e la presenza di molte finestre centinate cioè quella forma ad arco le ritroveremo tra pochissimo quindi dicevamo abbazia di Fossanova guardate appunto l'interno così sobrio così pulito doveva davvero portare alla meditazione austera a una versione davvero una visione ascetica spirituale della religiosità poi vi mostro l'abbazia di Casamari sempre nel Lazio nella versione esterna e nella versione interna anche in questo caso vedete che abbiamo delle campate coperte con volte a crociera costolonate ogivali ma per il resto e quindi vedete anche qui degli archi ogivali che uniscono le tre uniscono o separano le tre navate perché le nostre abbazie cistercensi erano sempre create con tre navate lo spazio era sempre molto ampio aperto doveva permettere una visione immediata verso il presbiterio e quindi davvero vedete che il tipo di costruzione era molto molto simile qui vi faccio vedere un edificio che è estremamente evocativo ma è realizzato secondo lo stesso schema stiamo guardando la meravigliosa abbazia di San Galgano costruita dal 1227 oggi è molto celebre perché si racconta che anzi lì vicino c'è anche la spada nella roccia conficcata in questo appunto questa spada conficcata in questa roccia che è una zona quindi decisamente evocativa ma è molto evocativa anche la stessa abbazia di San Galgano perché come vedete è priva del tetto è scoperchiata questo per eventi naturali che sono corsi nella storia nel tempo e si è deciso di mantenerla in questo modo è diventato un luogo magnifico a prescindere di nuovo vedete che la struttura è la stessa che vi ho mostrato una caratteristica tipica delle abbazie cistercense era quella appunto di non avere l'abside di avere queste finestre centinate talvolta su più livelli e un oculo una finestra circolare sul fondo vi mostro ancora qualche immagine vedete appunto che la struttura di questi pilastri era quasi più composita era una fascio compositi come dire sviluppati verticalmente con gli archi ogivali e vi mostro in questo caso anche un fotogramma di un film di andrei parkowski del 1983 che si chiama nostalgia che ha proprio scelto come luogo tra i vari luoghi tra le location individuate appunto dal regista per girare questo film c'era proprio l'abbazia di san galgano qui vi mostro appunto la locandina del film di andrei tarkovski tarkovski neggiature la stata scritta insieme anche a tonino guerra che invece è un personaggio italianissimo molto importante della nostra storia comunque questo per parlarvi appunto dell'attualità e quindi abbiamo detto due motivi vi ho mostrato per il momento della diversità del gotico italiano prima abbiamo detto la politica che aveva esigenze diverse secondo la profonda influenza dei monaci cistercensi c'è una terza motivazione vi dicevo e per spiegarvela vi sto mostrando in questo momento il battistero di firenze di san giovanni che è un edificio romanico quindi dell'epoca precedente ma la terza motivazione della diversità del gotico italiano rispetto a quello francese è proprio una forte continuità con lo stile romanico non c'era la necessità così evidente di trasformare gli edifici da romanico a gotico cambiando totalmente lo stile c'era una forte continuità molti edifici venivano rimaneggiati in senso gotico venivano aggiunti magari degli edifici degli archi ogivali o alcune parti ma vedete io ho scelto in questo caso di mostrarvi il battistero di firenze di cui parleremo per altri motivi parlando della nascita del rinascimento ma quando arriveremo tra un po tra poco ma vi sto mostrando quindi vi dicevo il battistero di san giovanni a firenze che è romanico per mostrarvi che è realizzato con il famoso marmo bicromo no la bicromia dei colori vi mostro anche la facciata di san miniato al monte sempre romanico quindi vi sto parlando quindi di edifici dell'epoca romanica perché perché voglio dirvi che nell'epoca gotica ci sarà una forte continuità con il romanico quindi sempre per rimanere in toscana vi mostro adesso la pianta e l'interno della basilica di santa maria novella sempre a firenze torniamo alla pianta vorrei mostrarvi che di nuovo abbiamo molto spesso basiliche attrenavate con delle campate in questo caso ancora quadrate con la presenza del transetto e vi mostro questo elemento guardate la presenza di absidi dell'abside e di absidiole o absidi minori quadrate quindi non più a semicerchio questo sarà tipico dell'influenza cistercense guardate l'interno di santa maria novella di nuovo vedete la presenza del marmo bicromo di nuovo abbiamo le campate con le volte crociera costolonate ogivali con il marmo bicromo e vedete che però la struttura è molto ampia e semplificata vedete che l'influenza dei cistercensi si risente anche quando abbiamo delle basiliche e non più semplicemente delle abbazie intanto che ci siamo vi faccio notare alcune opere strepitose che noi dovremo studiare guardate qui nell'angolino di sinistra c'è uno fresco la trinità di masaccio a cui noi dedicheremo del tempo perché è un'opera meravigliosa e qua in fondo abbiamo invece il crocifisso di Giotto ma di queste cose parleremo vi faccio vedere a questo punto non vi ho mostrato la facciata scusate di santa maria novella perché in realtà è stata realizzata durante il 1400 da leon battista alberti quindi me l'ho lasciata perdere vi mostro invece la facciata e inserite nel suo contesto della meravigliosa basilica di santa croce anche se la facciata non è originaria dell'epoca è stata realizzata nell'epoca ottocentesca sulla fassariga delle facciate gotiche più riuscite italiane ma guardiamo di nuovo la pianta della basilica meravigliosa di santa croce di nuovo vedete tre navate di nuovo vedete le cappelle rettangolari o quadrangolari ecco e qui vi presento un'altra novità l'abside sempre risentendo della influenza cistercense poteva essere quadrato o semipoligonale cioè vedete appunto che è come se fosse un semi esagono un semi ottagono a seconda di come lo consideriamo quindi anche questa geometrizzazione di queste forme di questi spazi è un elemento tipico cistercense e qui di nuovo vedete appunto la facciata ma vi dicevo non è originale dell'epoca qui vediamo l'interno le abbazie o spesso le basiliche gotiche italiane che risentivano dell'influsso cistercense spesso avevano la copertura con le capriate a vista potevano avere perché appunto era pensato così anche nelle abbazie per non distrarre i monaci tutto doveva essere molto semplice molto chiaro molto luminoso quindi questo sicuramente verrà rispettato vi dico soltanto che all'interno della basilica di santa croce la basilica santa croce in realtà è un vero e proprio tesoro perché custodisce tombe di uomini illustrissimi michelangelo alfieri galileo leo battista alberti e tanti altri ma questo dice anche dei capolavori ci sono due cappelle laterali da questa parte sono la cappella barri la cappella peruzzi che presentano gli affreschi di giotto poi di fianco c'è la cappella dei pazzi insomma è veramente un capolavoro ma lasciamolo perdere vi mostro a questo punto le due chiese che hanno le facciate più gotiche italiane cosa intendo dire quelle che sono più decorate più alla francese quelle più ricche di decorazione in particolare vi sto mostrando il meraviglioso duomo di siena in cui potete vedere appunto la presenza delle ghimberghe questi elementi architettonici che vi avevo presentato cioè al di sopra questi timpani che ritroviamo al di sopra dei portali come vedete portali fortemente strombati decorati e le ghimberghe e vedete che spesso in facciata abbiamo questa il rosone che già però esisteva nell'architettura romanica verrà spesso trasformato lo vedete anche in questo caso questa è l'altra meravigliosa chiesa che voglio presentare il duomo di orvieto è un'altra cosa che vi dicevo nella continuità con il romanico c'è da tenere conto anche del fatto che molte volte su chiese romaniche che erano appena state costruite vi ricordate l'anno 1000 si era riempito di chiese su queste chiese già appena costruite talvolta avevano fatto degli inserimenti gotici o goticheggianti in particolare troveremo chiese romaniche con l'inserimento di rosoni in facciata questo è gotico ma vi sto dicendo appunto gli elementi che potevamo trovare già nell'epoca tra il romanico e il gotico ecco di questo gotico temperato e trovavamo comunque queste volte a crociera costellonate talvolta ogivali appunto e l'inserimento di archi ogivali anche che derivavano nel sud italia dalla presenza appunto delle influenze arabe di cui appunto il sud risentiva torniamo per un attimo al duomo di orvieto bellissimo come vedete anche in questo caso guardate la decorazione incredibile della facciata con i portali strombati le ghimberghe molto accentuate nel verticalismo la presenza di guglie e pinnacoli proprio l'accentuale no il verticalismo della struttura e la intera facciata decorata con delle loggette traforate e tantissime nicchie con statue di santi ecco diciamo che sicuramente forse orvieto tra tutte è quella più la facciata più simile allo sfarso all'imponenza la maestosità alla ricerca di decorazione e di effetti o di luce in facciata soltanto con l'uso del mammo in questo caso ci sono anche dei mosaici molto simile vi dicevo la più simile possibile a quelle francesi ora dovremmo fare un discorso un po' diverso per concludere l'introduzione al gotico italiano e dovremmo farlo dovrei farlo presentandomi invece la chiesa al caso a parte cioè la chiesa la basilica di san francesco ad assisi ora dovrete sapere che san francesco era un santo che era morto nel 1226 e a partire dal 1228 gli verrà dedicata iniziata a costruire la chiesa in cui dovrà essere ospitato il suo corpo che verrà appunto lì tumulato dal 1230 quindi appena dopo la morte san francesco viene fatto santo viene iniziata la costruzione della chiesa che deve custodire le reliquie qui vedete la facciata e vedete che anche in questo caso facciamo veramente fatica a riconoscere gli elementi gotici la facciata è tripartita in senso orizzontale sì possiamo vedere appunto la presenza dell'arco ogivale di questo portale bipartito di cui abbiamo già visto qualche esempio ecco guardate vi presento un altro elemento il portale è bipartito con degli archi ogivali e la decorazione a trifora questo elemento quasi con tre lobi quasi come se fosse un quasi una sorta di fiore diciamo così appunto è diciamo scusate non trifora ma trilobato con tre lobi giustamente quindi questo arco ogivale trilobato sarà un elemento tipico del gotico sì però possiamo vedere solo questo elemento o il rosone molto decorato per il resto la struttura riprende quella sobrietà che sembra quasi risentire dell'influsso appunto dei monaci cistercensi mentre invece qui siamo in una bazzia noi non in una bazzia ma appunto in una basilica quindi il discorso è diverso la chiesa di San Francesco ad Assisi è però molto particolare perché siccome doveva custodire le reliquie del santo era pensata già in origine su due livelli diversi cioè voi sapete che dal romanico le chiese avevano una parte sotterranea la cripta che custodiva le reliquie dei santi ecco San Francesco era così tanto amato che nella costruzione della chiesa che doveva custodirne le reliquie si decise da subito di separare la chiesa inferiore la basilica inferiore creando un vero e proprio ingresso separato parte che voi vedete qui lateralmente da quella superiore le due piante dei due edifici sono molto semplici però voi vedete la basilica inferiore e la basilica superiore in entrambi i casi abbiamo una navata unica con un transetto e nel caso della basilica inferiore l'abside semicircolare nel caso della basilica superiore l'abside invece semipoligonale come abbiamo già imparato a riconoscere un attimo fa vi mostro ancora qualche foto molto espressiva e evocativa della basilica di San Francesco ad Assisi ah ecco mostrandovi anche forse lo vediamo bene in questa foto alcuni elementi gotici che possiamo riconoscere a questo punto guardate i poderosi contrafforti esterni che sono evidentemente in corrispondenza vedeteli qua in corrispondenza dei pilastri dell'interno la basilica di San Francesco ad Assisi tutto sommato anche se è una navata unica è molto alta a maggior ragione c'è la necessità di avere dei poderosi contrafforti esterni che sostengono la struttura e voi vedete anche gli archi rampanti non abbiamo la struttura ossea delle cattedrali gotiche francesi però gli elementi vengono impiegati anche nel gotico italiano un'altra foto espressiva qui vi mostro di nuovo l'ingresso laterale di nuovo con l'ingresso con il portale fortemente strombato con gli archi ogivali trilobati e appunto l'ingresso per la basilica inferiore ho messo un po' troppe foto qui vedete appunto l'interno della basilica inferiore è una vera e propria chiesa dicevamo autonoma però davvero sembra una grande cripta perché vedete che lo spazio è comunque molto basso e le volte a crociera sono abbassate ribassate quindi davvero c'è un effetto molto di grande concentrazione ma vedete che tutte le pareti sono affrescate le pareti, le volte a botte e le vele delle volte a crociera quindi la presenza della pittura è fondamentale tantissimi maestri importantissimi lavoreranno nella decorazione da fresco di San Francesco nella basilica inferiore ma soprattutto il grande artista di cui noi dovremo parlare nelle prossime puntate come dire è ovviamente Giotto Giotto sarà chiamato ad affrescare i 28 riquadri della fascia mediana della navata unica della basilica superiore di San Francesco d'Assisi e vedete che la struttura però è gotica nel senso che abbiamo abbiamo detto la navata unica il transetto là in fondo qui non si vede dalla foto le campate che si susseguono coperte da volte a crociera costolonate ogivali e vedete che ci sono questi semipilastri a fascio che sono addossati alle pareti che slanciano la struttura e abbiamo il cleristorio queste finestre ampie che inondavano di luce la chiesa stessa qualcuno dice anche che nel gotico italiano si sia scelto di non impiegare così tanto le vetrate ma di mantenere la presenza della fresca della pittura come Bibbia Pauperum come dimostrazione della Bibbia illustrazione della Bibbia per chi non sapeva leggere la Bibbia stessa il testo anche perché con la presenza del sole così forte in Italia in particolare nell'Italia centro-meridionale avrebbe in qualche modo cambiato completamente la concentrazione avrebbe anche creato forse degli spazi non troppo freschi diciamo e quindi si è preferito mantenere forse anche per questo motivo la presenza delle murature abbastanza spesse e importanti fa un po' eccezione in questo caso il cleristorio con queste finestre alte bifore appunto con una divisione con una colonnina si vedeva dall'esterno le vedete qua le bifore appunto ogibali trilobate come sempre e quindi fa un po' eccezione San Francesco ad Assisi qui ho messo un altro paio di foto dell'interno Giotto si occuperà in particolare di questi 28 riquadri di cui parleremo ma dovete sapere che la basilica di San Francesco sia nella parte inferiore che in quella superiore verrà considerato un vero e proprio cantiere d'Europa perché i migliori pittori francesi da tutta Italia romani Jacopo Torriti e altri personaggi importanti di quell'epoca verranno chiamati a decorare la chiesa verrà iniziata la chiesa nel 1228 vi dicevo sarà consacrata nel 1253 ma i lavori proseguiranno fino al 1280 dopodiché appunto Giotto verrà chiamato intorno al 1290 1995 lui e tutti gli altri che vi ho appena nominato gli altri pittori francesi italiani verranno chiamati appunto a decorare la struttura appena conclusa ora finiamo il video con una immagine totalmente diversa qui vedete Castel del Monte ad Andria nella Puglia del sud Puglia centro meridionale è al sud ma non è la parte più bassa della Puglia ed è una costruzione totalmente diversa qui si aprirebbe un capitolo a parte relativo all'architettura civile gotica mi piaceva però mostrarvi appunto la differenza l'imponenza questo era verosimilmente un casino di caccia voluto da Federico II e che aveva una ripresa della classicità molto importante ma vedete che anche la sobrietà una struttura meravigliosa pianta ottagonale con dei torrioni angolari ottagonali veramente una struttura incredibile ma vedete appunto che c'è una ripresa della classicità il timpano ma siamo ancora nell'epoca gotica mi piaceva concludere così grazie a tutti